Visto il periodo, potrebbe essere scambiata per la letterina a Babbo Natale, quella recapitata alla regione Abruzzo dal Comune di Roma. Il regalo richiesto però è l'opposto dei profumi e dei balocchi che spesso si mettono sotto l'albero, soprattutto dei profumi, visto che parliamo di spazzatura. Il Comune di Roma, per mano dell'assessore alla sostenibilità Giuseppina Montanari, ha deciso di uscire allo scoperto chiedendo ufficialmente aiuto all'Abruzzo, anche in conseguenza delle esplicite dichiarazioni del presidente vicario della giunta regionale Giovanni Lolli, secondo il quale le richieste arrivate dall'AMA, la società comunale romana e dalla regione Lazio non potevano considerarsi sufficienti. Se concesso, quello dell'Abruzzo sarà un aiuto in proroga, visto che prolungherebbe l'accordo già esistente che scade alla fine del 2018. La richiesta della giunta Raggi riguarda la possibilità di inviare in Abruzzo nel 2019 oltre 70.000 tonnellate di rifiuti romani, poiché la capitale, che già presentava delle criticità, ora è decisamente in affanno a causa dell'incendio che ha distrutto l'impianto TMB Salario. La risposta affermativa però non è affatto scontata. Proprio oggi Mazzocca, sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, delegato ad Ambiente ed Ecologia, ha incontrato all'Aquila i sindaci di Sulmona, Avezzano e Chieti ed altri portatori di interesse riguardo alle discariche che dovrebbero accogliere i rifiuti romani. Mazzocca ha spiegato che prima di ogni decisione occorrerà valutare gli effetti sulla rete abruzzese e che comunque, nel caso in cui la risposta della regione Abruzzo fosse positiva, riguarderebbe solo il trattamento dei rifiuti, non lo sbaltimento, poiché le nostre discariche saranno capienti in futuro solo per i rifiuti regionali. La riunione di oggi è partita dalla valutazione della sostenibilità. Abbiamo l'obbligo, ha detto Mazzocca, di tutelare il sistema regionale che, diversamente da quello del Lazio, ha segnato progressi importantissimi nel campo della raccolta differenziata. In Italia, purtroppo, ha detto ancora Mazzocca, ci sono altri che non comprendono come il valore della sostenibilità passi attraverso le buone pratiche e arrivi infine ad una economia circolare virtuosa per noi e per l'ambiente. Grazie a tutti.